Ben trovati su Keytravelandvlogs, welcome back to Keytravelandvlogs Oggi volevo fare un video su una regione spesso sottovalutata, l'Umbria In particolare su Orvieto e su una gemma un po' segreta che vedrete alla fine del video In particolare vedremo Orvieto che è una cittadina centrale sulla 1 e quindi può essere facilmente raggiungibile sia se si è in transito verso altre regioni sia per gire giornaliere È una cittadina molto carina, in tufo, piena di vedute e collinari veramente avvolgenti Questa è una delle viste che potete vedere dalle mura Sono tantissimi negozetti interessanti, ovviamente si mangia benissimo E la città è ricchissima di storia Questo è il Duomo È veramente impressionante dal punto di vista artistico La facciata verticale è decoratissima e sembra caderte addosso Dentro la cattedrale potete trovare anche l'Eucaristia del miracolo di Bolzena, che è molto famoso mondialmente Un posto che merita sicuramente una visita è il Pozzo di Orvieto Qui potete scendere a chiocciola circa 70 piani Qui potete scendere a chiocciola circa 20 piani Qui potete scendere a chiocciola bringe un pozzo Grazie a tutti Adesso ci spostiamo e vi farò scoprire una gemma nascosta dell'Umbria che si trova vicino Narni, le molle in particolare, le molle di Narni E guardate che spettacolo La briga ha questo fiume, sembrano quasi Maldiviani Sembra davvero irriale Adesso un po' di divertimento Musica Ovviamente un bagno vale la pena di farlo Spero che questo posto vi sia piaciuto Ci vediamo nel prossimo video Musica 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 Grazie a tutti